E merita X2? Non lo so ancora, non lo so ancora, fatemi sapere nei commenti We don't know, we don't know Oh, che pezzo ti ha fatto qua, Fra? Eeeh Eeeh Oh Minchia, pazzo sgravo Visto che abbiamo creato una nuova sezione del team, ovvero gli X2 per quelli fortissimi che non sono da team principale ma neanche da Academy perché è mostruosi Per ora c'è solo Rosè e Arminchione che fa i provini tra l'altro Quindi oggi dobbiamo decidere insieme anche i live perché sono i live Se il Tox il bambino dei diciani più forti in Italia è da X2 oppure ancora da Academy Ricordo che l'Academy serve per migliorare quindi se vediamo potenziale giocate insieme a quelli degli X e migliorerete con il tempo, ok? Detto ciò di contattino abusivo nello shop mi raccomando c'è l'app per migliorare il ping a me me l'ha stra migliorato È gratis sui primi giorni, provatela in descrizione e se volete fare il provino, visto che siamo in live, abbonatevi, è l'unico modo Quanto è di ping FPS d'età? 10 anni? FPS 2,40? Allora, ping 40 Ok FPS 144 perché tu sei per il monitor Ok, vabbè, certo Vabbè, 10 anni, perfetto Vabbè, ok, ok, sappiamo tutto, non è cambiato nulla Il PC va meglio fra l'ultima volta di crashava, ok, perfetto Dai, secondo te, sincero, hai fatto prestazioni brutte, hai avuto brutte... non lo so Perché io ti ho visto giocare molto male fra hai perso pure nei fight 1 vs 1 Ti avevo chiamato a te all'inizio, ti ricordi? Però non t'ho più chiamato perché le perdevi tutte Ma chi è? Rosè? Ma come Rosè? No, io non shoppo queste schede È Armin allora Sì, sono entrato apposta, Armin Sì, sono entrato apposta Ok Vuole far vedere... far vedere la vera forza di Toxie Ma dov'è? Di X2 Un altro, un altro, un altro, un altro Sì, un altro Comunque, come ho detto, ma... L'ha messo la doretta È piccolo, ma è... cioè, è davvero sveglio Cioè, per l'età che ha è stramaturo Cioè, è assurda sta cosa Ma non... cioè, nel senso, non nel giocare Ma proprio nelle cose, in tutto, frati, giuro Cioè, guarda Blaze Ma io, Blaze... Blaze sembra più piccolo, retta Ma anche dalla voce Ma questo non spara? Ah! Ecco, l'ha sniperato È morto, sì Non l'ho vista da anni 17, 17, 17, 17, 17 A me non fa vedere tanto Qua c'è la rischia Eh, sei la rischia da un botto, fra Eh, sì Non mi ha sprintato Secondo tentativo Sempre uno skin Ma che palle, però Sempre uno skin Comunque, vabbè, ragazzi Partì la prima... di prima sfigata Cioè, ci dici cosa ne pensi, Rosè Io penso che Tozzi Ok È molto bravo Ok Maturo per la sua età Tipo le mele melinde Va bene? Sì Era meglio se non chiedevo Va bene? Zitto Armin Vai, vai, Armin Armin Cosa ne pensi? Allora, io penso che sia molto bravo E niente Poi si è un po' panicato Secondo me non ha panicato Voleva semplicemente andarsene Fa la giocata Che ne so Poi ognuno nella sua testa Si è ritrovato con queste cose qua in mano Avrei detto Vabbè, mi lancio Ma non è brutto Mi lancio, fra Ma comunque, come ho detto Ultimamente Prestazioni sotto tono Secondo me ha scoperto la droga Un lama dietro di te Sapete che io non ho il tasto Per prendere la pizza Ma come sono queste cose? Ma come? Non è scoperto Fra il potere delle tartarughe ninja Ok, ok Ma sono due bot Va bene, ok Apprezzo Ok Ci stava anche il miss, eh Non era così facile scontato Apprezzo Ma va, erano due bot Le lobby di Rosè Però non diciamo Stella avrebbe rosicato come un maiale Per fortuna Non c'è Ma questo? Ma questa è una tartarughe ninja Un altro pro Ok Va bene Fra, finché sono player non reali Solo Ciris ci può morire 3 kill No, Ciris può morire tanto dalle NPC No, proprio Non so se vedrete mai quel video Ma spero di no Spero di no Perché significa che non ho idee Capito Che pubblica qua Ammerdata Ma comunque Non lo so cosa è successo Prima ha beccato una lobby con Non lo so Lo start Due persone Fortine Adesso solo bot Come cacchio è possibile? Ok, questo non è un bot E invece sì Spoiler È missa il bot Ok Vabbè Ma guardate che è più difficile Fata contro i bot Che sono imprevedibili Questo è una persona vera Dai sì, impossibile Ragazzi ma che lobby è? Ma in server privato Con E che cacchio è? Fra, preferisci questo pop o lo spamone? Quando fai dei contro i pro qua Aspetta Quando Cioè Se tu intendi il mitico È preferito Frullare il martello Però Ah sì In generale intendo Ah no In generale Preferisco il martello Però visto che il mitico Lo prendo Vabbè giusto Ok C'è il medaglione C'è la pizza Fra Quante quante kill hai? Fammi 5 Quante ne hai? 100 Ok perché non le vedo che è bugato 5 kill Vabbè 5 pro player raga 5 pro player Ecco come movimento è tanta roba Sì Sto coso È Ma veramente tanta roba È vero È meglio della spada Della katana È più veloce Appunto La katana c'era tutta l'animazione Sì che ti smincava Vero Vero Era facile da intapare aria Ok È un bot Dai vai a push a qualcuno Te prego Ora c'è il medaglione Sei pure visibile Però se sto tutti in NPC Mi sa che non Non te pushano Bella giacchinata Ok ma scusatemi I bot possono usare quelle cose E vedere una persona reale questa Non lo so Avrei qualche dubbio Non lo so Perché i bot Possono utilizzarla sta cosa Non penso Possono prendere l'overboard I bot Ma che è? Sono più forti di AC Ciris sono diventati Hanno programmati Meglio Ma che cacchio Comunque ragazzi Incredibile Hanno dato 74% Sì dai che è forte Sì 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 Comunque raga Per abbonarsi C'era il link da qualche parte Ok Allora challenge Overboard E cecchino Poiler Troverà un player vero No Cambiamo il sondaggio Te prego Sì Mecca la persona vera Non hai usato le build Praticamente Sei full materiali Perché i bot Te danno Oh decodrattina abusivo Miraccomario Mi raccomario Sì Che vi fa incontrare la bot Guardate quanto è buggata la cosa delle tartarughe ninja Quando ce l'hai in mano Sì Oh Questo è vero Questo è vero Da questo è vero Un bot non ti spara Così Questo è vero E non free buildare Fra Va la push up Va che ci serve il content Minca Quello puntava con il cecchino E si era intrafatto Eh non si aspettava D'artaruga ninja Così Questo è vero Questo è vero Sì sì E probabilmente siete tu e lui Ricorda che hai lo spammone Non riesce a prendere il muro Bello c'è il medaglione pure lui C'è il medaglione pure lui Eh non è male l'avversario Però tu sei più forte Sì bravo A prova del picchietto Quello era un 150 di danno Fidati Sì si sta un attimo Foxy cosa sta facendo Ok Ma E l'avversario sta scappando Perché c'è il medaglione Se vuole curarla Capito che C'è il rampino Ok bello Vai 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 Sì Cosa ho sempre carico Adesso scarico Eh dovresti ricaricare Fra Non diventa la vittima Per favore Ok Ok Bello Bello Regà bel quick Bel quick GG un altro medaglione Ora c'ha il pompa Ok preferisci questo Perfetto Ma cos'è quella Torre di Pisa Cosa Hai preso il cecchino Senza mirino No è bug È un bug Un bug visivo È un bug È un bug Raga Vai vai lì Ma tanto Tranquillo Tranquillo Ci avranno le cose Delle l'artaruga ninja Sì Sì Se no non sali così Non sei stupido Stai così Serio Dai Ah no C'è già uno che troppa Uno t'ha rubato il lavoro Ma è un bot Ma è un bot Ha usato il rampino Ha usato il rampino Ma il bot è pazzo Sì Ma è un criminale Ma è pazzo Sgravo Balla Ma cosa Ho fatto il gravo Un matto Bello Ce n'è un altro Per forza Perché non stava A fare questa cosa Solo È andato Ecco appunto Se lo prendevi Se lo prendevi Diventa mio figlio Comunque vuoi fare il provino Che state chiedendo in live Ragazzi C'è l'abbonamento Punto Poi ci sono anche le zone wars E se avete fortuna Magari venite strati Vediamo Ok E il link Sta proprio messo lì Raga Il primo messaggio C'è un link Se non lo trovate Eh ma C'è un pisello piccolo Gli entri? Entra Non entra Ma perché sta sparando alla macchina? Ah aveva 25 de vita Sto Cristo Bello Ma cosa fa per tutti Anzi ha fatto più Che il corcecchino Che con le armi normali E questo Non era un bot Ok Stattento Frate Esplode Casa Gesù pure Ok Di nuovo Stattento Non so se è stata una tattica Non ci credo Frate Non ci credo Sì Fatto il medikit Per poca vita Vabbè Da dov'era Non lo so Tre medaglioni hai Vè? Sì GG No è forte Raga è forte Sì bravo Oh Minchia Pazzo sgravo L'altro C'ha sta fissa di farti sniperare Sì sì Gli piace proprio C'ha l'abilità Stai dicendo che i player dentro sim Sono masochisti? Eh lui sì Pure io Eh miss incredibile Oh altra gente Altra gente è buona Con un bot pure Ho sentito il rumore D'un bot Comunque ragazzi Quella Quel free build Lo metto nell'intro I commenti dicono molto bravo Ma non posso Ah rompe pure le strutture Sta cosa Nooo Gli hai fatto 20 Quanto gli hai fatto Ok perfetto Stattento Che ti spamma col bot Oh quello davanti è E' cattivissimo Perché c'è un bot Perfetto Fra non è culo Ma è masochisti Il bot sta a spaccare le build Ah è scappato Quello con la macchina Ok fra ti serve De prende Almeno un pesce Ok Comunque è rotto È rotto proprio Sì Fortissimo Ma così Quanti anni ha Toxie 10 Sì E sconchia il rampino Ah certo Che è più forte del rampino Fra il rampino Te si bugga ogni 3 secondi A me non c'è Però mai bugato Ok medikit Ma perché Ma il bot è così cattivo Fra 7 nemici rimasti 7 nemici rimasti Vai 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 Ma c'è Gabriel In chat Gabriel dacci segno di vita Suicide No fra Ok Ok Easy Non la presentessa Stava fermo Quante kill hai Fra 13 Non so come l'ho fatto Prendere il match Sì con 14 14 Questa supera il mio record Quanto è il record tuo Lo si 15 Oh mio dio Ti batte Quella è il bot Fra Non conta come chi Non conta come chi Vabbè grazie Non c'è scritto Non compare Vabbè 14 Fra poi batte Rosè Te prego battilo No no Ok L'ha giunto il record di Rosè Se non muore ora Qualcuno che lo killa Per favore Ok un pro 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 Attento qua Un pro Che ti scoppio la testa Ora se Però per adesso È guagliato Toxie ti giuro Che se superi il mio record Ti ripicco Nell'utra Se ma questo è white Niente Record superato Quattro medaglioni Presi Let's go Ce ne hai cinque Ah ecco Ora si Questo ne aveva due Allora Eh si Era l'ultimo Con i medaglioni No dico l'avversario Ragazzi Ha battuto il record Di Rosè Devasta tutti Mamma mia Ma non è giusto Ma le mie lobby Erano tutte di pro player Ma c'è ragione pure di Rosè Quando uno ha ragione Ma cos'è per il simbolo lì Tartarughe Penso qualche Minuzione Ma se stai sperando Che adesso muoia Guarda Sì ma rispondo ad arminchione In tutto ciò Ma ero pure dimenticato Del Del bro Ma no ma perché Lui deve valutare attentamente Minchia sta guardando Ogni micromovimento Secondo me Con la lente di ingrandimento Sì sicuro Sì sicuro Sì sicuro Sì così concentrato Che mi sono immedesimato In Pensavi d'essere lui Beh Stavi giocato Oh ma quello Quel bro Ma che cazzo La realtà virtù Ma Una tattica un po Questo è un po' Stunnato mi sa Perché gli altri Hai contrato Le mie lobby Sono tutte di pro player Le sue Sti player mid Ma quello non sa Buildà Si è incastrato Quello sono io Quello sono io I loro io Ma attento Non sotto Questa è stata Una tattica Che pro Vedete ragazzi In modo Deve risale tutto Modificato geneticamente Ok Quante kill fra 17 Ma è 16 Ma come Mi sa che non è fa 17 Ma va 20 18 Eh no 19 19 Vai Faccio Faccio